Identificare un relitto non è mai soltanto dare un nome ad una nave, è molto di più. Il Vaporetto di Gliacca di Piraino è un relitto molto noto nel circondario del comune pirainese, sul quale si conoscono molte storie, per lo più senza fondamento. Da qui è nata la volontà di dare dignità a questo manufatto. Lo studio, condotto da Giuseppe Contipodoro Marchetta e Lisa Francesca Buonasera, sul riconoscimento del piroscafo si fonda su un approccio scientifico basato su fatti e documenti concreti. Lo studio fotogrammetico ha permesso di rilevare le attuali condizioni della SS Cambria, bastimento affondato davanti a Gliacca di Piraino la sera del 1 marzo 1869, a seguito di un'avaria dovuta a una tempesta. Uno studio andato avanti oltre un anno, che ha voluto dare dignità e contenuto ad un evento del passato che meritava una ricostruzione fattiva e priva di lacune. Nello scorso 2021 abbiamo iniziato questo studio e siamo riusciti a ricostruire l'intera vita della nave, sia dal punto di vista storico, testimonianza, eccetera, eccetera, ma anche dal punto di vista strutturale della nave, tutti i viaggi che ha fatto nel Mediterraneo. Siamo riusciti a trovare sia documenti di giornali, eccetera, eccetera, ma anche documenti di archivi ufficiali che ci hanno fatto ricostruire interi equipaggi, i viaggi che hanno fatto, a cosa servivano questi viaggi. E quindi abbiamo ricostruito l'intera vita di questo bastimento, che ricordiamo era una nave inglese che affondò nel 1869, proprio qui davanti, a circa 300 metri dalla costa. La cosa importante di questo studio è che siamo riusciti a identificare le 20 vittime del naufragio. Successivamente, ora cercheremo appunto di fare anche una ricerca ai discendenti per fare anche un'eventuale commemorazione. Lo studio anche si è prodotto per un anno, un anno e mezzo, perché abbiamo fatto un importante lavoro di ricostruzione 3D appunto del relitto. Lo studio fotogrammetrico è stato compiuto da Gianmichelle Aria, che è ispettore onorario della servintendenza del mare per la provincia di Messina. In un paio di immersioni abbiamo fatto circa 6.000 fotografie ad altissima risoluzione e questo ci ha fatto ricostruire questo 3D del relitto, che ci fa conoscere anche le condizioni attuali appunto dello scafo. E sono riconoscibili anche moltissimi elementi che noi avevamo già trovato sui disegni originali della nave, questo qua. Grazie alla collaborazione con le autorità marittime è stata anche portata avanti la richiesta di interdizione del relitto nello specchio acqua e speriamo che a giorni possa diventare definitiva. Cercheremo infatti di portare avanti anche questa storia del territorio piranese che appunto potrebbe anche rappresentare un volano per il turismo e diciamo anche l'interesse verso questi luoghi. La nave partita a Trieste, subito generale l'Adriatico, le condizioni meteo non erano ottimali. Un paio di giorni prima appunto del naufragio, che si trovavano già nello stretto di Messina, le condizioni erano davvero impegnative. Il mare era in tempeste, c'era un vento fortissimo. La nave mentre appunto arrivava, mentre uscendo dal stretto di Messina, si avviava appunto verso Londra, diciamo così, verso casa. incontrò qui veramente a largo fra Iaga e Brollo appunto le condizioni pessime. Il comandante pensò di invertire la rotta e tornare nello stretto di Messina fino al migliorare delle condizioni. Durante appunto questa fase, questa manovra, un'avaria insomma sia al sistema propulsivo che anche alle vele, portò anche la nave poi a incagliarsi, diciamo a sbattere violentamente contro il fondo e per il mare si aprì come un libro, si spezzò e venti maranai morirono appunto di annegamento. Questo poi verrà anche spiegato meglio in un passaggio poi successivo a questo, dove vedremo effettivamente per filo e per segno tutto quello che è successo. Normalmente dopo il naufragio tutta la popolazione del paese si riversò sulla spiaggia per cercare appunto di aiutare i superstiti a recuperare quello che restava appunto del bastimento. Pensi che in futuro si possa fare qualche immersione a livello turistico con la gente che può andare a vedere il relitto? Sì, già adesso naturalmente il relitto è fruibile da chiunque, anche perché è un'immissione molto semplice, massimo sono a dieci metri di profondità e chiunque che ha un brevetto su bacco e fa la richiesta in Capitanie di Porto per poterci andare, già non è un problema. Naturalmente ci si appoggia sempre ai diving center, io rappresento il Nebro's Diving Center, e in futuro una volta che verrà fatta anche l'interdizione questo meccanismo verrà anche un attimo rivisto perché il sito dovrà essere tutelato, ma comunque è raggiungibile anche dalla spiaggia portandosi anche un pallone di segnalazione, si può fare anche snorkeling perché le strutture sono molto riconoscibili e il relitto è abbastanza chiaro. E diciamo anche da quello che abbiamo trovato, fotografie su internet, sui post su Instagram, Facebook, è anche molto visto e molto conosciuto. noi abbiamo cercato di dare dignità a questo manufatto.